Il concorso di baci Tom e i suoi amici sono al parco. Devono decidere a cosa giocare. E se giocassimo al re dei baci? Dice Tom. Che gioco è? Domandano gli altri. Ognuno racconta il bacio che gli è piaciuto di più, risponde Tom. Chi descrive il più bello sarà il re o la regina dei baci. Comincio io, dice Tom. Una volta il papà e la mamma mi hanno dato un bacio insieme. Il papà su una guancia e la mamma sull'altra. Due baci nello stesso momento. Adoro i baci a panino. Quello che mi piace di più, dice Mara, è il bacio della buonanotte. La sera, quando sono nel lettino e sto per addormentarmi, papà mi dà un bacio. Il bacio della buonanotte è ancora più bello delle coccole della mattina. Io adoro i baci a sorpresa, dice Elisa. Una volta il mio fratellino mi ha seguita di nascosto. Non era per spaventarmi, ma per saltarmi sulle spalle e darmi un bacio sul collo. I miei preferiti, dice Chloe, sono i bacini che mi dà la mia sorellina. I suoi bacini schioccano e scoppiettano quando si posano sulla mia guancia. E tu, Leo? domanda Tom. Non dici niente. Avanti, racconta. Leo è imbarazzato, non osa rispondere, ma poi trova il coraggio. A me piace tanto il bacio al cioccolato della mamma. Quando è il momento di andare a tavola e lei mi bacia, io sento posarsi sulla mia guancia un bacio che sa di cioccolato. Leo, il tuo bacio è bellissimo, sei tu il re dei baci, dicono gli amici e incoronano Leo con una corona di foglie. Leo chiude gli occhi per assaporare questo momento meraviglioso. Quando Leo riapre gli occhi, gli amici sono spariti. Dove sono andati a finire? Sono corsi dalle loro mamme per avere anche loro un bel bacio al cioccolato. Oh, come faccio. Ecco. Grazie.